Sono due le ordinanze di misura cautelare del divieto di avvicinamento per il reato di circonvenzione di incapaci continuato e aggravato in concorso ottenuto dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Gela e eseguita dai carabinieri del NOR, sezione operativa del reparto territoriale della città del Golfo, che hanno condotto le indagini. Nei confronti di SA e CR, le iniziali rispettivamente di padre e figlio, che approfittando della vicinanza del cosiddetto focolare domestico, si erano sostituiti agli iniziali indagati dell'operazione San Giuseppe, l'attività di indagine da cui trae origine, condizionando le scelte dell'anziana vittima, che trascorreva buona parte delle sue giornate in piena solitudine. Grazie al coraggio dell'anziano, si è giunti all'esecuzione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento nei confronti di due familiari. Le indagini hanno permesso di mettere in risalto il disegno criminoso, protrattosi nel tempo dai due indagati, quali, sfruttando lo stato di deficienza psichica e di analfabetismo della vittima, lo avevano indotto a compiere prelevamenti e operazioni finanziarie, riversando le somme su conti correnti intestati ai malfattori. L'attività investigativa, compiuta tramite meticolosi accertamenti e riscontri bancari, volti a ricostruire il flusso del denaro sottratto all'anziano, hanno permesso di rinvenire e recuperare, ponendoli sotto sequestro preventivo, la somma di 74.845,72 euro, giacenti sui conti degli indagati, ritenuto il profitto del reato.